Giovedì 12 ottobre 2017. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Serafino. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Serafino e Valfredo. Accadde oggi. Il 12 ottobre del 1946 l'Italia introduce l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Il canto degli italiani, vero nome dell'inno, a tutt'oggi non è stato ancora ufficializzato nella Costituzione, perciò resta provvisorio e adottato ad interim. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 12 ottobre ricordiamo il tenore Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935. La citazione del giorno. Chi sbaglia la prima asola non si corregge abbottonandosi. Johann Wolfgang Goethe. Dice il saggio. Quando punti il dito ad accusare il fratello, ricordati che tre dita indicano te. Proverbio della Guinea. La parola preziosa. La parola di oggi è melomane. Molti sono appassionati di musica, ma se la ascolti 16 ore al giorno c'è una buona possibilità che tu sia un melomane. Questa parola indica chi ha una sfrenata e a volte morbosa passione per la musica, specialmente per quella lirica.